Che fare con Leonardo a 5 euro? Secondo me ci può stare rimbalzo lì, perché capisco che il titolo non è più al centro dell'interesse del mercato, perché parliamoci francamente, un'azienda legata al business della difesa è evidente che in questa fase faccia fatica, perché tipicamente le risorse maggiori dei governi vanno in direzioni diverse rispetto a quella che è armamenti, difesa e quant'altro, quindi lo capisco, però il titolo ha perso metà del proprio valore da inizio anno e anche qui non mi spiego tanto questa reticenza che è il mercato a comprare un altro, secondo me non c'è tantissima fiducia nel management, non è entrato in fila in col mercato quei gestori, secondo me è sbagliato, perché secondo me poi tutto sommato i risultati sono discreti, però detto ciò che Alessandro il mercato ha sempre ragione, quindi per il momento ho tolto io e lo ammetto, però anche qui a 5 euro sono particolarmente ingolosito e secondo me è una piccola fiscia, si può mettere nello specifico nell'articolo consigliavo, proprio per metterla piccola, utilizzare uno strumento a leva che ti consente, con un impegno di capitale molto marginale, di provare a massimizzare un eventuale rimbarzo, quindi senza spostare troppo il portafoglio, provi a mettere un po' di sale nella minestra comprando questo strumento a leva, se le cose vanno bene, ottimizzi, se le cose vanno invece, il titolo continua a scendere, diciamo una piccola porzione di capitale ti salva da un impatto molto forte sul portafoglio complessivo.